Grazie Presidente. Come è stato già sottolineato, arriviamo alla votazione di oggi dopo un lungo ritardo su un tema estremamente importante, la cosiddetta direttiva Bolkstein, che è una delle principali direttive che regola i servizi nel mercato interno. In particolare discutiamo, affrontiamo e proviamo a correggere l'applicazione dell'articolo 12, l'applicazione che ne è stata fatta in Italia nel 2010 con un decreto legislativo che ha incluso anche il commercio su area pubblica nell'ambito di applicazione della direttiva. Ma è evidente, su questo voglio fare qualche riflessione, è evidente che qui oggi, oltre ad affrontare un punto specifico, affrontiamo una riflessione di carattere più generale. Perché la direttiva Bolkstein non è un incidente di percorso, non è un frutto eccentrico, ma è la coerente e diretta applicazione dei principi contenuti nei trattati europei. Il principio cardine dei trattati europei, che è appunto il principio della concorrenza, che secondo quello che è il paradigma liberista porta al bene comune. Quindi il primato della dimensione economica sulla dimensione politica è la funzione ancillare dello Stato, che è ridotto a presidio dei sacri meccanismi del mercato, secondo appunto quello che è il mantra dell'ordoliberismo di matrice tedesca. Ecco, il principio della concorrenza, un principio che è radicalmente contraddittorio con i principi della nostra Costituzione, che invece, come sappiamo tutti, ha come linee di fondo la solidarietà, la dignità del lavoro, il primato dell'utilità sociale sulla libertà di iniziativa economica, l'articolo 41 della nostra Costituzione. E' vero che nei trattati si possono trovare anche altri principi meno contraddittori o anche coerenti, ma sono principi sottoordinati al principio della concorrenza. E' questo principio della concorrenza che trova applicazione nella direttiva Bolksten, il principio che informa il mercato unico europeo. Su quale fattore produttivo si esercita? La concorrenza su quale fattore produttivo si esercita? Si esercita sulla rendita? No, decisamente no. Si esercita sul capitale? No, decisamente no. Si esercita su che cosa? Si esercita sul fattore produttivo lavoro. Ed è il lavoro che viene svalutato, che viene sacrificato, che viene condizionato in modo negativo dall'applicazione del principio della concorrenza. La direttiva applica un principio, articola questo principio della concorrenza, secondo la regola del Paese di origine. Il Paese di origine che è stato in questa direttiva, nella direttiva sui lavoratori distaccati, nella direttiva sulle qualifiche professionali, che riguarda appunto tra le altre categorie le guide turistiche, come è stato ricordato, la regola del Paese di origine è stato e continua a essere il canale principale, efficacissimo, di dumping sociale, di svalutazione del lavoro. Ecco quindi che siamo di fronte a un prodotto che è appunto non occasionale e su questo dovremmo riflettere, al di là delle questioni specifiche. Guardate, noi dedichiamo fiumi di parole, tutti oramai, in modo critico al Fiscal Compact, ma la direttiva Bolkistan e il decreto attuativo, la direttiva sui lavoratori distaccati, la direttiva sulle qualifiche professionali, hanno effetti decisamente più pesanti sulle condizioni del lavoro, sulla qualità del lavoro, sul welfare dei Paesi che un tempo avevano delle condizioni del lavoro degnitose. Non stiamo parlando di questioni astratte, stiamo parlando di problemi estremamente concreti sui quali dovremmo riflettere ed intervenire. E le iniziative di intervento devono stare su due livelli e mi avvio a concludere. Il primo è a livello europeo, per le ragioni che ho detto prima. Non siamo di fronte alle esigenze corporative, come è stata spesso raccontata questa storia, le esigenze corporative di qualche categoria, in particolare in questo caso le esigenze corporative del commercio ambulante. Siamo di fronte a dei principi sbagliati, a dei principi che colpiscono il lavoro subordinato e autonomo, rispetto alla quale ci vuole un'offensiva a tutto campo nell'Unione Europea. Per correggere radicalmente la direttiva Bolkstein e le altre direttive che ho citato e altre ancora che non ho avuto tempo di affrontare. E poi c'è il versante interno. Bisogna arginare gli effetti negativi delle direttive. A cominciare dalla direttiva Bolkstein è stato ricordato la rilevanza dell'ambito in termini di persone, di uomini e donne, di imprese, di produzione di valore aggiunto che riguarda il commercio ambulante. E vorrei ricordare qua che non stiamo facendo un'iniziativa bizzarra. Il Parlamento europeo, nella seduta del 5 luglio del 2010, ha invitato gli Stati membri a escludere il commercio ambulante dall'applicazione della direttiva Bolkstein, il Parlamento europeo. E poi vorrei sottolineare che non vi sono, non risulta che vi siano altri Paesi europei che hanno applicato la direttiva Bolkstein al commercio ambulante. E vorrei infine sottolineare che il Consiglio regionale, diversi consigli regionali in Italia, tra i quali quello del Piemonte e quello della Puglia, hanno invitato il Governo a escludere il commercio ambulante dall'ambito di applicazione della direttiva. E i consigli comunali di Roma e di Torino hanno chiesto che vengano sospesi, hanno impegnato i rispettivi esecutivi affinché vengano sospesi i bandi per la messa a gara delle concessioni. Allora, noi nella nostra mozione chiediamo due impegni molto precisi. Due, ci siamo limitati, nonostante, come è stato ricordato, i terreni su cui si esercita l'influenza negativa della direttiva siano diversi. Chiediamo di escludere il commercio ambulante dall'applicazione della direttiva e quindi di correggere il decreto legislativo 59 del 2010 e di convocare un tavolo, il Governo convoca un tavolo con le rappresentanze, le rappresentanze quelle vere, non solo quelle che fanno comodo, le rappresentanze vere di quei lavoratori e lavoratrici che stanno sulla strada, che stanno nei mercati ogni giorno e concordi, valuti con loro la regolazione da attuare e si eviti lo scempio che abbiamo visto l'anno scorso con emendamenti surrettizi infilati di notte a qualche decreto per provare a farla franca. Quindi noi voteremo tutte le mozioni, tutti i dispositivi che come il nostro chiedono l'esclusione degli ambulanti dall'applicazione della direttiva a Bolkstein e però devo dire che non accettiamo... Concludo la riformulazione del Governo e devo dire, mi spiace che la trovo anche abbastanza poco rispettosa perché un conto è dire non siamo d'accordo ed è legittimo, un conto è proporre di studiare al punto in cui siamo come si fa a proporre e ad avere rispetto degli interlocutori quando si propone di studiare gli effetti potenzialmente negativi della direttiva. Questo davvero è inaccettabile e chiediamo al Governo quindi di rivalutare le posizioni che ha preso e le valutazioni che ha fatto sui dispositivi delle varie mozioni. Grazie, iscritta a parlare non è dall'Asia, ne ha facoltà. Grazie Presidente. La gravissima crisi del 2008 non è stata ancora superata dal nostro Paese nel testimonianzo al fatto che l'Italia si riprova...